Un esemplare di cinghiale maschio di 220 chili oltre il doppio del peso medio è stato abbattuto nei pressi di Ari da una squadra di esperti cacciatori. Si tratta di un esemplare record che segue altri due abbattimenti dello stesso incredibile peso sempre nel Chietino fino a qualche anno fa mai si erano registrati cinghiali superiori ai 200 chili. Ad Ari nella zona del torrente Dentalo all'ingresso del paese l'enorme cinghiale si è imbattuto nella squadra La Rinascita costituita da una ventina di cacciatori di Bucchianico, Bacri, Ari e Giuliano Teatino. L'ungolato braccato dai cani si è trovato sulla traiettoria di Cristian che non si è scomposto nonostante la mole della preda. Cristian e Antonio, esperto cacciatore. Io ho 40 anni che vado a caccia mai visto un esemplare del genere. Quindi ci siamo adattati a fare questa battuta e purtroppo è uscito fuori questa grande bestia. 220 chili pesato su una bascola anche perché l'abbiamo avuto caricare con un trattore. Addirittura? Addirittura sì sì. Vi siete impauriti no? No noi siamo a caccia non ci potevamo impaurire. Però può essere potenzialmente pericoloso? Sicuramente, sicuramente sempre attento a quello che quando esce queste bestie quello che fa. Al suo fianco c'è Cristian ha avuto un compito particolare? Sì Cristian è giovane e però è un grande cacciatore che lui con un colpo sole ha abbattuto questo cingale. Le raccomandazioni quali sono a tutti coloro che sono le prese con battute di caccia? Non sparare se non si vede il selvatico perché non si può sparare se si vede muovere. Che può essere una persona, un cane, una persona che sta lavorando, cioè può succedere qualsiasi cosa. Quindi sparare solo se si vede il selvatico. Come è successo a me? Come vi spiegate che cinghiali di questo peso, di questa grandezza cominciano ad essere frequenti? Non è il primo caso? Sì, non è il primo caso e comunque adesso hanno molto cibo, la prima cosa. Seconda cosa sono cinghiali che hanno dieci anni di età, quindi non sono cinghiali di un anno o due anni, quindi l'età ce l'hanno, il cibo ce l'hanno e ormai sono come i maiali che abbiamo a casa.